Comportamento antisindacale. Così le sigle di categoria tornano sulle barricate e rilanciano la notizia della condanna di RSH, notale cronache come BRSI che già aveva perso i ricorsi contro i trasferimenti di personale dalla sede di Vitritto nel Barese a Mister Bianco nel Catanese, dichiarati legittimi dalla FIOMCGL. Provano a rassicurare i lavoratori. Il giudice spiegano ha di fatto dichiarato antisindacale il comportamento delle società rendendo nulli i trasferimenti così come erano stati resi nulli dal precedente ex articolo 700 attivato tramite le rappresentanze. Obiettivo ora garantire la continuità occupazionale dopo la prima sentenza la società che si occupa di assistenza informatica aveva comunicato di aver avviato procedura di licenziamento collettivo per 78 lavoratori della sede barese. Un altro risultato che in qualche maniera è stato inficiato, ora bisogna capire come si avverrà quella avvertenza. Una avvertenza particolare che nasce in maniera subdola con il trasferimento di lavoratori e lavoratrici da Bari in Sicilia dalla sera alla mattina. Abbiamo impugnato il provvedimento in tribunale, subito dopo sono arrivate le lettere di licenziamento. Adesso c'è un presidio, comunque contiamo di trovare una soluzione anche con l'intervento della regione su tanti aspetti.